Oggi presentiamo la radiofrequenza, un metodo innovativo ed estremamente efficace per il trattamento non invasivo degli inestetismi della pelle e della cellulite. Questa tecnologia infatti è l'unica che riesce a generare energia sotto forma di calore all'interno dei tessuti dove produce una rapida e potente azione rigenerante e ristrutturante. La radiofrequenza oltre a non essere invasiva è totalmente indolore e mostra la sua efficacia già dal primo trattamento durante il quale la cliente percepirà una leggera e piacevole sensazione di calore durante tutto il trattamento. Con l'invecchiamento la pelle perde progressivamente la sua compattezza e la sua elasticità e questo fatto produce la comparsa di rughe sul viso e sul corpo. La radiofrequenza sviluppando calore negli strati profondi della pelle riattiva la formazione di collagene ed elastina che aiutano ad eliminare le rughe e a restituire un aspetto rivigato ai tessuti. A questo si aggiunge una vasodilatazione locale che favorisce l'apporto di sangue, ossigeno e delle sostanze nutrienti necessarie alla rivitalizzazione della pelle. Per il trattamento rughe viso-decolte si utilizza un manipolo bipolare con il quale trattare una superficie pari a 6-8 volte l'area del piattello. Dopo aver deterso la pelle ed applicato la crema conduttiva si deve muovere il manipolo sull'area da trattare con movimento lento e circolare in modo da diffondere un calore interno. Gli effetti sulla pelle cominciano ad essere evidenti dopo 1-2 minuti dall'inizio del trattamento. La pelle trattata si arrossa leggermente ed assume un aspetto turgido e disteso che tende a consolidarsi con i successivi trattamenti. Per ottenere risultati ottimali è bene controllare che il livello della temperatura percepita dalla cliente corrisponda al livello consigliato per lo specifico programma. Personalmente per aumentare la prestazione e l'efficacia della radiofrequenza preferisco effettuare alcuni minuti di preriscaldamento della pelle con un programma libero. Per il trattamento della cellulite è necessario impiegare un manipolo monopolare a testini intercambiabili ed un elettrodo a piastra da posizionare a contatto con la pelle. In questo primo trattamento per la cellulite sulle cosce posizioniamo la piastra sotto il gluteo. Il manipolo è dotato di tre testini intercambiabili che hanno una superficie diversa in funzione delle aree da trattare. Per trattare una coscia, esempio, uso un manipolo con una testina grande mentre per una parte piccola come l'interno del ginocchio usiamo un manipolo con una testina più piccola. La temperatura della pelle durante il trattamento deve aumentare gradualmente e poi mantenersi costante. Al termine del trattamento con la radiofrequenza è possibile effettuare un massaggio con una crema nutriente. Grazie a tutti.